Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Pace a voi. Nel cammino penitenziale della Quaresima non può mancare l'invito fiducioso, fiduciale alla riconciliazione con la stupenda pagina della parabola del figlio al prodigo, come sempre abbiamo detto, ma soprattutto del Padre misericordioso. Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Sono le parole della gioia di Dio per il figlio ritrovato. Sono le parole della gioia di Dio per l'umanità, ricondotta a Lui dalla morte e risurrezione di Cristo. Il nostro percorso di penitenza, di conversione, trova in questo invito alla riconciliazione un'attrattiva straordinaria. E nel Padre misericordioso trova la fonte che ci permette di abbeverarci alla grazia che pacifica il cuore anche più sconvolto, il cuore anche più travagliato. E in questa prospettiva della riconciliazione desiderata ardentemente dal Signore, voluta dal Padre, si pone la pagina paolina della seconda retta dei Corinti. Quindi se uno è in Cristo è una creatura nuova. Ecco, Paolo parte proprio dal mistero pasquale è compiuto. L'umanità riconciliata con il Padre, ricondotta al Padre nella risurrezione di Cristo. Ed è questa umanità ricondotta al Padre che è la nostra realtà, la nostra condizione di battezzati. Chi è che è in Cristo? È il battezzato. E il battezzato in Cristo è una creatura nuova. È l'uomo vecchio. Ormai è un passato quasi da dimenticare. Ma quest'opera è opera di Dio. La Pasqua è opera di Dio. È opera di Dio nel Figlio, opera di Dio nel Padre, opera di Dio nel dinamismo dello Spirito Santo. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati a sé mediante Cristo. Quello che il Padre ha compiuto per Cristo deve essere annunciato ad ogni uomo. La riconciliazione nel sangue di Cristo deve raggiungere ogni uomo. Il compito della Chiesa, ricevuto la sera di Pasqua, è di ricondurre l'umanità nella riconciliazione. O ancora meglio di proclamare, annunciare l'opera di riconciliazione. Questo è il grande servizio che il Risorto ha affidato alla Chiesa. Questo è il grande servizio che il Risorto ha affidato a Paolo. Questo è il grande servizio che il Risorto ha affidato a ognuno di noi. Tutti, personalmente, come Chiesa, abbiamo ricevuto il Ministero, la diaconia, il servizio della riconciliazione. È un servizio di cui noi siamo, allo stesso tempo, attivi e passivi. Passivi perché Dio opera in noi, la nostra personale riconciliazione. Attivi perché noi ci lasciamo riconciliare con il Signore e ne diventiamo nella storia, nella vita, i ministri. Riconciliati, proclamiamo la riconciliazione. Proclamiamo la riconciliazione cercando vie di pacificazione con i fratelli e dei fratelli con Dio. Il Ministero della Riconciliazione risponde al comando del Risorto ma risponde al cuore stesso di Dio. Se egli ha impegnato il suo figlio per la riconciliazione è perché è questa la grande opera che egli desidera. Perché è solo la riconciliazione che permette la nuova creazione. Senza riconciliazione non c'è nuova creazione. L'atto della nuova creazione è proprio l'atto della riconciliazione e del perdono. Nel battesimo nasce la nuova creatura. Nel sacramento della penitenza, confessione, rinasce ancora una volta la nuova creatura. Tutti sicuramente in queste feste pasquali vivremo il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Viviamolo così, come una nuova creazione. Ogni confessione per noi è vera la parola del Salmo 50. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, rinnova il mio spirito. Quest'atto di riconciliazione nasce dal cuore di Dio, il quale a un certo punto ha cancellato il debito dell'umanità. Per mezzo di Cristo, Egli ha cancellato questo debito e non imputa più a noi nessuna colpa, nessun peccato. Abbiamo mai pensato che Cristo, assumendo tutto il nostro peccato, come dice Paolo in questa lettera proclamata, ecco, Egli stesso è trattato da peccato in nostro favore, Cristo che assume il nostro peccato è trattato da peccato quando torna al Padre. È come il figlio al prodigo. Per noi si è fatto il figlio che torna a casa. E noi abbiamo ancora tentennamenti, abbiamo ancora reticenza a tornare al Padre. quando Cristo, Lui stesso, raccogliendoci nella nostra bassezza, nella nostra miseria, nella nostra condizione di abiezione, da per essere paragonati ai porci, Cristo ci raccoglie e ci porta al Padre. e opera per noi il miracolo della risurrezione. Della risurrezione dall'abiezione, della risurrezione dalla colpa, della risurrezione dalla pena che meritiamo per la nostra colpa, della risurrezione della morte come conseguenza del peccato. E allora l'invito accorato di Paolo, che ha ricevuto questo ministero della riconciliazione, è comprensibile. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. La Chiesa non annuncia semplicemente la riconciliazione, ma supplica l'uomo perché accetti di riconciliarsi con Dio, perché accetti l'abbraccio con Dio. Questa supplica si rivolge a chi fa l'esperienza terribile del peccato più basso, ma questo annuncio è anche per chi come il fratello maggiore si sente giusto. E nella sua giustizia sente di non aver ricevuto mai niente da Dio. E nella sua autoreferenzialità e autosufficienza pensa di non aver mai avuto nessun dono, di essere sempre e solo bastato a se stesso. Questa supplica diventa ancora più forte per chi vive questo atteggiamento di sicura autoreferenzialità e autosufficienza. Sia che siamo il figlio caduto in miseria, sia che siamo il figlio rimasto a casa, per tutti c'è la supplica a lasciarci riconciliare con Dio. Come possiamo noi pensare di essere creature nuove senza l'abbraccio del perdono? Come possiamo avere l'abbraccio del perdono se non iniziamo almeno la parola del pentimento? Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. E qui si ferma perché la misericordia chiude la bocca. Ma quel figlio è pronto a dire anche il resto. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ma per il padre è il figlio che ritrova la sua dignità. Come facciamo noi a non sentire questo annuncio? A non rispondere a questa supplica? Guardando il crocifisso, ricordiamoci che Dio ha trattato il figlio da peccato in nostro favore, perché noi potessimo finalmente entrare nella sua giustizia. Il crocifisso è l'amore di Dio che tratta il figlio innocente da peccato per salvare i veri peccatori. Grazie. Grazie.